amici digi case buon lunedì 25 luglio da Ponte Nossa in questa estate davvero torrida davvero infuocata vi mostriamo come sempre una delle nostre abitazioni questa è per gli amanti delle travia vista del cammino e della comodità perché ci troviamo a Ponte Nossa quindi vi dico subito non siamo in una località di altissima montagna siamo poco sotto i 600 metri di altitudine quindi adatto anche a persone che hanno problemi di pressione o semplicemente che vogliono l'amitezza della parte collinare quasi montana siamo comunque in Alta Valle Seriana a 5 minuti da Crusone quello che vi sto facendo vedere è la zona giorno di questo appartamento su due livelli che viene venduto a un prezzo davvero incredibile 59 mila euro questa che vedete dove vedete questa macchina è la strada che porta a Premolo e là in fondo vedete Parre quindi delle località che avrete già sentito da noi in questo periodo davvero l'escursione termica anche a queste quote è molto buona quindi di giorno fa decisamente caldo anche qui ma appena il sole va giù ci sono delle temperature gradevolissime quindi non potete nemmeno confrontarle con quelle che purtroppo si sta patendo in questo periodo in pianura e quindi sappiate che qui l'escursione termica vi garantisce il riposo notturno e alla sera passeggiate meravigliose allora entriamo nell'appartamento mi sto mettendo qui perché questo appartamento è molto interessante perché entrando nella zona giorno ha il triplo affaccio uno è da dove sono entrato in cui vedete poi sulla sulla sinistra la scala che porta alla zona notte abbiamo questa zona questa zona cucina davvero molto bella molto molto colorata molto di calore vedete la cassa panca messa qui proprio di fronte alla cucina col suo frigorifero freezer i bellissimi elettrodomestici e qua c'è la caldaia autonoma metano vi garantiamo sempre la verifica di tutte di tutte le caldaia affinché possiate essere sereni nell'acquisto e anche poi nell'approccio alla vostra nuova casa e poi abbiamo un angolo molto interessante con il suo divano letto quindi qua abbiamo già un divano letto qui è stata posizionata qua la televisione ma si può tranquillamente mettere anche lì magari togliendo quella bella vetrinetta la sotto ci sono gli attacchi anche del televisore e poi c'è questo bel cammino angolare in pietra che dà sul secondo balconcino che permette davvero una bellissima reazione qui siamo più verso verso monte entra un'aria freschissima in questo momento da qui come vedete qua in una zona comunque abitata anche di prime case e questa è la vista dalla entrando dall'altro balconcino quindi dove vedete il mio dito è l'ingresso principale con la doppia blindatura il balcone la adesso usciamo nuovamente e lo guardiamo e l'angolo cottura quindi ai ben divise ben divise le zone vedete da qui lo percepite proprio bene bene quindi siamo sul balcone diciamo principale quello rivolto a sud l'ingresso lì da est e là a nord quindi abbiamo un tripolo affaccio nella zona giorno vi ricordo che costa 59 mila euro è arredata così come vedete questa scala porta poi al piano sottotetto che hai un secondo bagnettino poi vedremo sia il bagno qua che quello che quello sopra qui abbiamo il balconcino principale dove si può tranquillamente pranzare fuori con gli amici o semplicemente con la propria famiglia e qua vedete abbiamo il sole proprio di fronte è importante dirvelo perché d'estate è facile fare gli appuntamenti e mostrarvi il sole ma qui anche d'inverno vi nasce il sole da dove vedete la mia mano e fa proprio l'arco e va a tramontare poi qua sulla destra vedete qua siamo proprio sopra puntenossa in direzione premolo con tutti i servizi davvero a portata di mano rientriamo poi nell'appartamento cominciamo andare a vedere il primo bagno il bagno diciamo principale che si accede attraverso questo disimpegno quindi attraverso questa porta che ha un disimpegno qua dietro adesso loro hanno messo la scala gli appendi abiti e quant'altro e poi entrando invece qua entriamo nel bagno principale in cui c'è il vedete il vater bidet un bagno finestrato l'attacco della lavatrice questa è una lavatrice un po fuori misura magari mettendola una un po più stretta non avreste difficoltà e qua c'è un bellissimo box doccia incassato vedete nel muro è un 80 per 80 incassato con il box doccia quindi qua c'è il bellissimo lavandino e quindi abbiamo un bagno qui al piano vi ricordo ancora nuovamente triplo affaccio sud est che guarda verso clusone verso parre verso premolo e quello a nord che guarda verso le altre case qui in questa zona di ponte nostra allora ritorniamo poi verso la zona chiamiamola zona notte diciamo intanto qua vedete anche una bellissima tesata come si dice in gergo con una bellissima illuminazione e cammino da da un'impronta molto importante all'appartamento saliamo molto comoda la scala molto larga e guardate il fascino di questa zona di questa zona massardata questo sottotetto quindi calorifero la vedete poi calore va verso l'alto quindi già accendendo il camino potrete avere il calore in questa zona quindi questa che è una zona salottino che può essere utilizzata vedete che c'è una seconda doga secondo lettino sotto quindi può essere due posti letto qua mentre di quadro e mi giro c'è un letto matrimoniale lucernari nuovissimi ecco lì armadi vedete su misura ma ecco mi vedete anche nella nella figura sia sono delle altezze comode guardate anche posiziono nella zona del letto guardate l'armadio l'armadio che bella importanza da e abbiamo tutti gli spazi possibili immaginabili e poi la bellezza la comodità di avere anche il secondo bagnetto nella zona notte guardate senza dover scendere fa anche da ripostiglio come vedete water bidet e lavandino per la notte molto molto interessante guardiamo la zona camera vista da qui quindi un potenziale sei posti letto a 59 mila euro in una posizione comodissima per raggiungere clusone per raggiungere le piste da sci di castello della presolana e quindi su al monte pora comodissimo anche per andare verso ardese o gli spiazzi di gromo venite chiamatemi al 320 0 3 3 4 3 3 2 o in ufficio allo 0 3 4 6 2 3 9 3 3 per chiedere tutte le informazioni sia di questo appartamento o dandomi le indicazioni di quello che state cercando guardate che bella che bello sottotetto scendiamo nuovamente nella zona giorno eccola qua guardate dall'alto la zona cucina con una bellissima caso casa panca e la zona divano e l'ingresso eccoci ancora qui sulla strada che da ponte nostra va verso premolo qui di fronte al sole io vi saluto nuovamente spero di avervi dato un'altra idea per un appartamento davvero interessante per evadere un po dal caos della città e anche dalla calura davvero estrema fa caldo anche qui ho letto molti di voi che reputano località come questa e non di montagna e da un punto di vista prettamente tecnico potete avere ragione ma vi assicuro che già sui 600 metri dove siamo la temperatura si abbatte nelle ore notturne quindi permette davvero di riposare e soprattutto garantisce un utilizzo davvero ampio anche durante l'inverno perché ci sono tutti i servizi a disposizione zona molto abitata molto facile da raggiungere siamo a mezz'ora da Bergamo e un'ora veramente da Milano sapendo scegliere gli orari non ditemi che poi alla domenica alle 5 del pomeriggio fate coda ma chi ha la casa ha la possibilità di cenare qui o partire in orari sicuramente migliori quindi chiamatemi 320 033 4332 io sono Stefano chiaramente con me ci sono Emanuele Fabio Edoardo Luigi giù al lago quindi chiamatemi oppure lo 0346 23933 vi rispondono assolutamente Isabella e Siria e sapranno poi indirizzarvi a uno di noi a uno di noi liberi pronti per assistervi e cercare di darvi la cosa migliore possibile in questo momento c'è una brezza meravigliosa quindi vi assicuro che siamo in un luogo magico a presto un caro saluto da Stefano e da tutto lo staff di casa